Guarda Clank! Questa nave è incredibile! Benvenuto sulla Fenice, signore! Wow! Impressionante, non è vero? La Fenice è l'orgoglio della flotta galattica. È equipaggiata con la più avanzata tecnologia. Tute di addestramento olografico, distributori automatici di corazze e armi, poligoni di tiro virtuali, sistema potenziato Starfighter e c'è persino un bel sistema di gioco Gadgetron VG9000! Un VG9000? Ma certo! Con un controller Mavox Fireball Pro, casco VR e una periferica per il ballo 0G! Vuoi sposarmi, bellezza? Beh, sarete molto stanchi dopo il viaggio che avete fatto. Perché non vi riposate nei vostri alloggi? Abbiamo preparato una zona apposta per Quark, così non vi disturberà. Quando volete io sono sul ponte! Per vedere la ma... Oh sì, il cannonari su occhio! Lo prenderò più tardi... Quando avrò un po' più di soldi, peccato! Quark è via! Immagino che quello invece sia per l'armatura! Questo è il nostro rivendimento! Sì! Andiamo qui! Cos'è da offrirmi? Ah però costano, eh! Hai capito sti qui? Ciao Quark, vieni qui! Quark, dai, su! Quark! Questi sono i tuoi alloggi! Ho predisposto il VG9000 per far funzionare i videofumetti! Però! Non abbiamo badato a spese! Salute! Come avrà fatto a ridursi così? Beh, vedi, la vita di un eroe intergalattico può essere molto stressante! Sì, comunque, vuoi dire che questo pazzo è l'unica speranza che abbiamo per fermare Nefarius? Siamo spacciati! Beh, siamo rovinati! Tieni premuto il tasto... Ottimo! Ci vediamo sul ponte! Vivo! Computer, portami sul ponte! Che bella nonna! Che bella nonna! Tieni il tasto triangolo per interrompere i messaggi! Ah, brava che me l'hai detto adesso! Non c'è più il segnale! Prova a dare più energia! Quello è il presidente! Sono spuntati tutti dal nulla! Truppe d'invasione dei tirannoidi! La base presidenziale è stata invasa! Non possiamo più resistere a lungo! Signor presidente! Papà! Sei ancora lì! Papà! Cittadini robotici della galassia solana! L'ora della vostra liberazione è vicina! Per troppo tempo noi robot abbiamo sofferto per il settarismo, la stupidità, la mediocrità e l'insopportabile fetore delle forme di vita organica. Presto tutti i robot potranno vivere nella libertà e nell'uguaglianza del mio benevolo e naturalmente inflessibile governo! E voi, schifosissime forme di vita organica, non potete aspettarvi altro che essere disintegrati! Questo è tutto per ora! Tracciate un percorso per Marcadia! Velocità massima! Preparate la navicella per l'assalto planetario! Muoviamoci! Ci vediamo a Marcadia! Dottor Nefarius! Rovatti! Sì! Dottor Nefarius, diciamolo, il più bel cattivo mai inventato nella storia di Raccita in Black! Per lì caratterizzati in una maniera incredibile! Soprattutto anche grazie al suo doppiatore! Però anche quello originale, quello inglese, fa la sua sporca figura anche lui! Però, Rovatti è Rovatti! Ok, Marcadia! Vio!